Salve a tutti, vediamo come completare la missione Cold Storage su FNAF Help Wanted 2 Cominciamo subito, allora prendiamo il phon e settiamolo su caldo Dato che dobbiamo scongelare le braccia, quindi con questa lo mettiamo su caldo Bene, cominciamo a scongelare entrambe le braccia Una volta fatto, posiamo il phon Prendiamo lo stampino quadrato per questo braccio Ecco fatto Lo stampino tondo per il secondo braccio Olè A questo punto prendiamo questa gege e lo mettiamo qui Come dice il monitor Adesso mettiamo, sempre sul caldo, sì, il phon Scongeliamo questa parte bassa della batteria La rimuoviamo, questa la buttiamo, non ci serve più E mettiamo la batteria nuova Ecco fatto Premiamo il pulsante A questo punto dobbiamo settarlo su freddo Così E quando viene il simbolo del fuoco Dobbiamo scongelare la parte bassa della batteria Cioè la pila insomma in sostanza Questo anche più volte se necessario Fino al completamento della procedura Bene Premiamo Adesso rimuoviamo entrambi gli occhi Premiamo il naso Non vi spaventate C'è un piccolo jumpscare Adesso Attenzione Prendiamo il phon E scongeliamo la mascella Questa è la parte più difficile del livello Non era chiaro Perché se no Lui praticamente Chiude la mascella E ci uccide Ora lo scongelo Un po' di più Per sicurezza Alla fine Bisogna premere il pulsante da sotto Ma prima assicuratevi Di aver congelato bene Perché ci sono morto Quattro o cinque volte Qui Ok Per sicurezza Su, giù Ok Premiamo Adesso Togliamo Il coperchio Qui Ok Premiamo il pulsante E adesso dobbiamo Congelare tutta questa parte Più che altro Come si vede dal Dal monitor Le molle laterali E quella in basso Più volte Fino a che Non si apre lo sportello Quindi aspettiamo E continuiamo A raffreddare Quella di destra Forse ancora Ecco qua Perfetto Adesso afferriamo la torta Prendiamola Questa la mettiamo qui Prendiamo l'altra torta E la mettiamo dentro Ed ecco fatto Missione compiuta Un saluto